ogni giorno miliardi di pomodori vengono brutalmente intossicati da pesticidi e diserbanti ogni giorno tonnellate di melanzane vengono modificate geneticamente divenendo dei mutanti o g m ogni giorno milioni di bottiglie di vino vengono barbaramente riempite di miscele estere di scarsa qualità e tutto questo per colpa delle lobby multinazionali che mirano solamente ad arricchirsi a discapito della nostra salute ma da oggi c'è una soluzione agricoltura biodinamica noi di agricoltura biodinamica coltiviamo con amore le nostre verdure ogni giorno diamo lavoro a centinaia di giovani donne consenzienti che stanno otto ore al giorno ad accarezzare le nostre zucchine per farle crescere sane e rigogliose grazie alla consulenza dei più grandi esperti in ambito esoterico possiamo dire di essere all'avanguardia in termini di antichi riti tribali che ci permettono di ottenere alimenti puri e benefici per il tuo organismo usiamo solamente sangue di vergine estratta nelle notti di luna piena e abbiamo solo acqua freschissima che facciamo depurare dalle manine sante dei nostri bambini tramite caraffe filtranti che rimuovono il 99 per cento delle tossine mamma mia quanto odio le tossine tutta la nostra produzione è a chilometro zero viene a trovarci dal lunedì al venerdì allo svincolo est del grande raccordo anulare ci trovi lì di fianco al grande inceneritore e per i più piccini c'è l'esperienza biodinamica junior per imparare divertendosi al campus estivo biodinamico junior insegniamo ai più piccini a dinamizzare l'acqua e realizzare elementi taumaturgici come il corno letame biodinamico vuol dire sicuro se anche tu vuoi un'alimentazione sana e priva delle tossine scegli biodinamico la vedi questa è biodinamica e costa solo 400 euro però ricorda la salute non ha prezzo a differenza della mia dignità la produzione non risponde l'eventuale inefficacia dei prodotti pubblicizzati il corno letame non è incluso nel prezzo pubblicizzati il corno